oh così ma devi andare già su col culo sul tronco se no non ti passa no no così cioè con quattro tempi si va con questa no il motore ce l'ha anche bello anch'io lì sbaglio fai il tronchetto e poi allunga via sasso bravo bravo lì bella piano piano qua allargati bene non ti fermare più vai su sull'erba vai su sull'erba vai 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 non ti fermare bravo così bravo come si chiama come te ha imparato ha imparato mica dal maestro per niente che cattrota io devo forciare che sei rompiti con la bottonezza grazie a tutti grazie a tutti